Their or their? Qual è la differenza? Ciao sono Monica di Impara l'inglese con monica.com e in questa lezione ti svelerò la differenza tra queste due parole. Their, come lo vedi scritto in questo caso, è l'aggettivo possessivo loro che si riferisce pertanto alla terza persona plurale they. In una frase potresti trovarlo in questo senso Quindi gli studenti possono utilizzare i loro materiali a seconda della loro provenienza. In quest'altro modo invece their significa loro sono, è infatti la contraction di they are pertanto potresti trovarlo in una frase del tipo Quindi stanno costruendo delle nuove case in quel quartiere. Bene per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova coppia di Confusing Words. Grazie a tutti!